Arigato, le arriva all'umumento, le arriva all'umumento, come chi è che lo diceva? Non mi ricordo. Vabbè, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, benvenute in questo nuovo episodio. Questo video, questo vlog è dedicato a voi. No, sto scherzando, non a tutti voi, mi piacerebbe, ma sicuramente a una parte di tutti coloro che mi seguono su YouTube. È dedicato ai piloti di DJI Mavic 2. In questo video vedremo ben 5 accessori by Freewell. Freewell è un brand che abbiamo visto sul canale, abbiamo iniziato a conoscerlo con i primi video realizzati con Damiano, poi altri realizzati anche con Simona, dove abbiamo visto tutti i loro accessori, o quantomeno gli accessori più venduti. Oggi invece, con loro, grazie alla collaborazione in particolare con Harry, che appunto mi segue, collabora con me, e quasi saudisce tutte le mie richieste, quasi, quindi ringrazio in modo particolare Harry, abbiamo fatto una cernita degli accessori, dei prodotti che hanno interessanti, cioè almeno secondo me interessanti, e che possano essere utili agli iscritti. Però questo video lo faremo in un modo diverso, ovvero che non sarà il classico video dove ci sono tutta una serie di accessori e poi dopo, link in descrizione, ci vediamo al prossimo video, quindi pubblicità. No, questo video sarà ovviamente in parte quello perché andrò a mostrarvi dei prodotti che non posso purtroppo regalare, perché non ho fisicamente il numero sufficiente, però quattro prodotti li andrò a regalare. Sono quattro filtri che gentilmente Harry, giusto appunto, mi dico Harry, mi ha fornito, sono filtri sia per il Mavic 2 Pro che per il Mavic 2 Zoom. E lì regalerò agli utenti che saranno più fortunati, quindi coloro che scriveranno qua sotto qualcosa. E vi dirò dopo, alla fine del video, come fare per partecipare al giveaway, quindi restate con me fino alla fine di questo episodio. I filtri sono sponsorizzati da Freeway, quindi ringrazio loro per avermeli inviati, le spedizioni le pagherò io, ma lo faccio con piacere. Ci tengo a dirvelo per trasparenza, perché a volte leggo dei commenti della serie chissà quanto guadagni da YouTube, eccetera, invece no, ci si paga le spedizioni dei giveaway quasi, almeno per ora, ma un giorno magari compreremo le ville, come fanno gli americani, chi lo sa. Va bene, ad ogni modo, al di là di questo, al di là degli scherzi, mi piacerebbe davvero voi partecipate a questo giveaway e quindi non vi preoccupate per le spedizioni di trasporto, perché se qualcuno ci starà già dicendo no, me le pago io, già mi regalo i filtri, non ti preoccupare. Mi fa piacere soprattutto perché siamo arrivati a 21.000 iscritti e poi è Natale. Quindi è arrivato il momento anche di un momento felice, no? La durata ve la dirò dopo perché c'è un periodo comunque di adesione, non è che possiamo aspettare i mesi, ma neanche superare il Natale ed è per questo anche che il video è uscito oggi, a due settimane dal Natale. È già Natale. Partiamo con gli accessori. Gli accessori di oggi sono cinque, come detto. Allora, partiamo con una borsetta che secondo me strafica. E via Simona! Abbiamo scelto la borsetta tra tutta una serie di accessori perché questa borsa è molto compatta, simile a quella di PGI Tech, molto più economica, costa 19€. Di tutti questi accessori trovate il link in descrizione. La borsa permette nella parte coperta di andare ad inserire il Mavic 2, che sia pro o zoom non cambia, l'alloggiamento è stato studiato apposta per il drone e lo tiene perfettamente bloccato. Tra l'altro è ben imbottita, ben realizzata, con la cerniera anche che insomma scorre molto bene. Nella parte invece inferiore abbiamo la retina dove potremo andare a mettere il controller, smontando i joystick ci sta perfettamente e ci permette praticamente in un lampo di tirar fuori il drone, tirar fuori il remote controller e volare. Quindi è una borsa adatta a quelle situazioni dove magari non è che andremo a fare la gita proprio per volare con il drone, però sapete a volte uno dice è meglio avercelo dietro che non. Ebbene, così avremo una borsetta comoda, pratica, leggera, con anche tra l'altro il manico in pelle, in ecopelle, ben realizzato e leggera pratica da portare in giro. Il setup poi del drone è velocissimo e dopo aver montato il tutto potremo volare. Il secondo accessorio è una sorta di camera scura. Io la chiamo così perché va a creare sopra lo smartphone un parallelepipedo nel quale potremo andarci a inserire quasi gli occhi e non avremo più problemi di riflessi e disturbi dovuti alla luce. L'installazione è molto semplice. Il prodotto è leggero, compatto, si chiude quasi a lettera praticamente e permette una volta montato, agganciati i due supporti e bloccato poi il laccio con il velcro di avere non solo il supporto in sicurezza ma anche la tracolla che ci permetterà di avere le mani libere e a volte quando siamo impicciati col drone è comodo. Potremmo utilizzarlo come vedete, come fa Simone in queste immagini, avvicinando il volto a questa sorta di parallelepipedo di camera scura oppure anche con le dovute distanze a piacimento. Il vantaggio è che non avremo più i riflessi dovuti alla luce, non avremo più disturbi di sole e avremo tra l'altro una parte vicina a noi ritagliata tramite la quale potremo intervenire sullo smartphone e andare a modificarci tutti i nostri parametri e navigare all'interno dell'applicazione. In questo video non potevano mancare i filtri, infatti abbiamo terzo e quarto accessorio, quarta posizione dedicata ai filtri. Filtri per DJI Mavic 2 Zoom e per DJI Mavic 2 Pro. Vedremo come installare entrambi anche perché questi due, insieme agli altri Long Exposure Set, faranno parte del giveaway. Quali sono le differenze tra questi, i filtri grigi tra virgolette, e i filtri azzurri? I filtri azzurri sono rivolti a tutti coloro che hanno bisogno di filtri ingiornati di sole ma ingiornati anche di estrema luminosità. Capita a volte anche in condizioni nuvolose di vedere una certa luce. Ebbene con un ND4 si potrebbe già riuscire ad avere un effetto gradevole per mantenere la regola dello shutter speed o quantomeno per avere un video più fluido. All'interno di questo packaging poi abbiamo l'ND4, l'ND8, l'ND16 e il PL, che sarebbe il filtro polarizzato, e ce l'abbiamo sia per lo zoom che per il Pro, quindi stesse gradazioni e stessi stop. Ovviamente cambiano le metodologie di installazione. I Long Exposure invece sono filtri rivolti a tutti coloro che vogliono creare quelle foto splendide effetto seta con il drone. Questi sono filtri che possono essere utilizzati, anzi devono essere utilizzati in condizioni di luce, anche estrema, perché la gradazione più alta che avremo è l'ND1000, che può essere utilizzata anche in giornate di estremo sole. A volte si va addirittura su valori superiori al 1000, ma già con il 1000 si riesce a fare un buon effetto seta. E questi due sono appunto presenti nel giveaway e vi dirò dopo. Quindi restate con me fino alla fine. Come fare per vincerli? Torniamo a parlare di questi due, che abbiamo testato in una giornata di sole con un video. Allora, sul DJI Mavic 2 Pro per andare ad installare i filtri bisogna ovviamente rimuovere il vetrino che è presente sul DJI Mavic 2 Pro e per farlo bisogna semplicemente premere e poi effettuare una lieve rotazione, come vedete nel video, dopodiché il filtro si smonterà. Questi filtri, entrambi, anche quelli Long Exposure, sono realizzati in metallo, quindi hanno la cornice in metallo e il materiale del filtro è vetro, non è plastica. Quindi sono filtri di estrema qualità e ciò giustifica anche il prezzo. Per scoprirlo andate in descrizione. Una volta installato il filtro, quindi scelto in base alla giornata, più luminosa sarà la giornata, più alto dovrà essere il filtro, sempre parlando per il mondo video, posizionato, acceso il drone e come potete vedere non causa alcun disturbo il filtro allo start-up del gimbal, avremo poi modo di decollare. All'interno della confezione dei filtri, oltre alla custodia rigida che contiene i quattro filtri, abbiamo anche un panno utile, a volte capita, magari ci si mette il dito per sbaglio, per andare a pulire il drone o per andare a pulire la camera del drone. Quello che state vedendo adesso è invece una clip realizzata con l'ND16 su DJI Mavic 2 Pro con 10 bit di log M e il latto ufficiale DJI e un po' di color correction, perché ci vuole sempre, lo sapete. Ora andiamo a vedere invece per il DJI Mavic 2 Zoom come funziona. Lì forse è ancora più semplice, anche se richiede un pochino più di movimento. Allora, sul Mavic 2 Zoom il set dei filtri è identico, quindi abbiamo lo stesso contenuto, stessa confezione, ovviamente cambia la forma del filtro, perché la camera del Mavic 2 Zoom ha una forma conica, mentre l'altra sembra più un parallelepipedo, un po' strano. Per andare a rimuovere l'anello che va a proteggere con un vetro aggiuntivo la camera del DJI Mavic 2 Zoom dovremo semplicemente andare a svitare il supporto. E da lì avremo l'accesso poi all'invoglio per andarci a avvitare il nostro filtro. E nel mentre ora state vedendo una clip realizzata con il DJI Mavic 2 Zoom e un filtro PL, quindi polarizzato, non gradient, quindi senza stop. Il polarizzato va a togliere i riflessi, scurisce leggermente, ma non è paragonabile a un ND8 né un ND16. E l'ultimo accessorio di oggi è un tablet holder. E vi starete chiedendo, ma che senso ha che è scomodo da portare in giro? Poco pratico, anche da usare, è molto ingombrante, pesa... Però, c'è da dirlo. Volare con un iPad, volare con un tablet, volare con uno schermo grande è tutta un'altra cosa, rispetto a che volare con uno smartphone. In merito a questo tablet holder è particolarmente pesante, va detto, però è molto stabile. Dà una certa sicurezza quando lo si monta, quando lo si utilizza, non indifferente. A me è capitato di vedere tablet holder con l'iPad sopra e poi bastava semplicemente muovere l'iPad e si smontava tutto. Quindi questa è una cosa, non dico professionale, ma quasi, ci si avvicina. Innanzitutto ha un meccanismo testa fluida per andare a regolare l'inclinazione dell'iPad, cosa non da sottovalutare. Poi abbiamo dietro un meccanismo in plastica per andare a avvitare la parte del supporto estensibile al meccanismo a testa fluida e la plastica non è di quelle plastichette che si rompe dopo poco, ma è bella robusta. Infine abbiamo una bella piastra resistente che va inserita nel supporto del Mavic 2 o del Mavic 1 perché poi è compatibile con tutta la Mavic Series, quindi anche con l'Air e anche con lo Spark. ed è realizzato in metallo, bello pesante e bello rigido. Questi dettagli fanno la differenza rispetto ai plasticoni. Questo modello, che costa comunque 30€, non va a costare una cifra esagerata, è un buon modello, un buon prodotto. Abbiamo anche tra l'altro la tracolla, volendo ad andare ad inserire, ad agganciare proprio con un gancio, c'è un anellino fatto apposta, predisposto sul tablet holder per permetterci di eventualmente utilizzare anche il nostro collo per sostenere il tutto, ma anche poi per avere le mani libere. Quindi sicuramente è un prodotto interessante. Tra l'altro da notare che all'interno della confezione ci siano anche i due cavi, tra l'altro realizzati in nylon molto belli e resistenti, uno per il mondo iPhone, iPad, quindi iOS, e l'altro USB-C. Quindi buona anche questa confezione con all'interno tracolla, supporto e pure i due cavetti, così da non doverli acquistare a parte e tra l'altro sono cavetti con una lunghezza ottimizzata alle esigenze del pilota, non con i cavi da arrotolare da due metri, no non ha senso. Sono cavetti corti ma con lunghezza sufficiente. E con questo prodotto abbiamo concluso la carrellata dedicata ai 5 accessori di oggi. Abbiamo visto la borsetta, i filtri per il Mavic 2 Pro, per il Mavic 2 Zoom e poi due accessori che volendo sono abbastanza universali. Alla fine il tablet holder è compatibile con tutta la Mavic Series e con anche lo Spark, mentre il supporto con la camera scura a parallelepipedo è anche compatibile con il Phantom, con i controller del Phantom. Qualora volassimo con lo smartphone potremmo utilizzarlo. Diventa un po' strano il controller ma la percezione e la qualità dell'immagine, la qualità visiva aumenta notevolmente. Siamo arrivati alla parte conclusiva di questo vlog ed è arrivato il momento ora di parlare di come fare per vincere, non mi ci stanno in mano, uno di questi set. Siete pronti? Dovrete fare un sacco di... No, sto scherzando. Non dovrete fare niente di speciale. Se non, iscrizione e mi piace a questo vlog direi d'obbligo. Però a parte questo, a parte gli scherzi, basterà commentare questo episodio con un hashtag. In base al modello che avrete, freewell4pro oppure freewell4zoom. Quindi hashtag freewell4pro oppure hashtag freewell4zoom. Così mi darete modo di inviarvi il modello pertinente al vostro drone e vi chiedo quest'ultima cortesia, non commentate, cioè con questo hashtag, commentate pure ma non con questo hashtag, qualora non aveste il Mavic 2. Giusto per non togliere la possibilità a coloro che dovessero averlo di vincere un set di filtri. Mi raccomando, questo per correttezza nei confronti di insomma coloro che partecipano. L'ultima cosa poi, se vi farà piacere, quindi qualora foste vincitori o le vincitrici, postatemi una foto vostra con il drone. Oppure solo con il drone, qualora non voleste apparire, e taggatemi, quindi chiocciolina, MacVox su Instagram. Così riceverò la foto e insomma mi fa piacere, giusto per dare un volto e dare un seguito a questo giveaway. Quindi l'unica cosa da fare è questa e i vincitori o le vincitrici, giusto appunto, verranno poi estratte il 25 dicembre, quindi a Natale ci sarà il post nella parte superiore di questo episodio con i vincitori e poi li contatterò per avere l'indirizzo di spedizione. Dopodiché riceveranno dopo poco, insomma speriamo poi il corriere si sbrighi, uno di questi filtri. Quindi buona fortuna a tutti, in bocca al lupo, e vi aspetto con gli altri episodi, intanto buon giveaway. Ciao a tutti e gli auguri di Natale ce li facciamo più avanti. Non ve li faccio adesso perché insomma due settimane prima è esagerato. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!